Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Vagitaly. Allora, siamo a bordo dell'ultima serie della Volkswagen Charan, che era ancora un'auto basata su piattaforma PQ, per intenderci quella della Golf 6. La riconosciamo perché il cruscotto e anche poi la radio è proprio quella che ha sempre montato le Golf 6. La particolarità è appunto avere le SD card qui a lato, poi per il resto delle Audi queste radio è sempre rimasto lo stesso con 4-4 tasti a lato e le due rotelle. Su questa radio stiamo andando intanto a fare un aggiornamento, perché la macchina ovviamente è indietro di 2-3 anni di aggiornamenti, e in più andremo ad attivare sia il comando vocale che l'App Connect, perché attualmente non sono assolutamente attivi. Quindi adesso andiamo a fare tutti gli aggiornamenti rimanenti e ci vediamo fra qualche secondo. Eccoci qua ragazzi, lavoro terminato. Come vedete Android Auto e quindi tutto l'App Connect è perfettamente funzionante. Comandi vocali, eccoli che vengono fuori, con un clic li chiamiamo e con due clic poi li mandiamo via. Quindi radio aggiornata, è perfettamente sbloccata e modernizzata, diciamo visto che ora finalmente abbiamo anche Android Auto a bordo di questa macchina che ha qualche annetto. Se il video vi è piaciuto date like, condividetelo, se avete un'auto con una radio da sbloccare, comandi vocali, App Connect e robe simili, trovate sotto la descrizione del video tutti i nostri email, contatti, facebook e via così. Alla prossima, un saluto da tutto lo staff di Vag Italy. Alla prossima, un saluto da tutti i nostri email,